Per risolvere i problemi della città ci candidiamo alle Olimpiadi del 2028. Sì, ma è quello che ci siamo detti e su questo siamo assolutamente stati chiari sotto il profilo della tempistica. Guardate, ve l'ho detto in appena un sospetto, quando uno non ha niente da nascondere, soprattutto c'è assoluta trasparenza in quello che stiamo facendo, anche sotto il profilo del dossier, sinceramente non sono preoccupato proprio perché c'è della disponibilità a non essere prevenuto. Poi è chiaro che c'è una fase di qualche settimana e che magari in alcuni aspetti anche verbali vengono strumentalizzati da parte di tutti alla campagna elettorale. Però mi sembra che c'è molta serenità di giudizia e ripeto, la parola esatta è propositività per ciò che riguarda la candidatura.